In attesa dei dati relativi al bollettino epidemiologico che parlano di un Abruzzo anche con le ultime rilevazioni statistiche ormai prossimo se non già arrivato al picco della quarta ondata con numeri che però vanno a stabilizzarsi pertanto nella successione quotidiana dei nuovi contagiati, numeri che però avvicinano la nostra regione alla zona arancione per quel che riguarda soprattutto il dato dei ricoveri ospedalieri visto che gli altri parametri, quello delle terapie intensive e quello dell'indice di contagiosità sono stati già superati da tempo. Fondamentale rimane la campagna vaccinale che riprende con lo sprint in questi giorni, campagna vaccinale che però è già stata sostanzialmente esaurita almeno per quanto riguarda l'immunizzazione iniziale della popolazione in un comune della provincia di Pescara in cui si è raggiunto il record provinciale dell'88% dei cittadini già vaccinati. Noi siamo andati a vedere più da vicino questa realtà questa mattina e infatti a Torre dei Passeri la nostra Marina Moretti. Buon pomeriggio Marina. Sì, Carmine buongiorno, buon pomeriggio a te e ai nostri telespettatori. Sì hai detto bene, però in questa intervista sorvoleremo un pochino su questo primato che comunque c'è. Più dell'88% dei cittadini di Torre dei Passeri ha ricevuto almeno una dose nell'ambito della provincia di Pescara è una cifra certificata dall'Asle, mi diceva il sindaco, sicuramente record, ma c'è un sistema poi dietro. C'è un sistema e dietro le somministrazioni e le immunizzazioni e anche nel come poi vengono seguite anche le persone che diventano positive. Ne parleremo anche con il dottor Nilo Mancini che insieme ad uno staff molto determinato, nutrito e disponibile almeno finché le energie riescono a reggere perché siete davvero sotto pressione, insomma ci spiegherà alcune cose. Intanto però con il sindaco di Torre dei Passeri Giovanni Mancini, non sono parenti, gliel'ho già chiesto, e vorrei sapere insomma come vi siete organizzati sin da subito perché voi avete iniziato subito a fare i tamponi nel palazzetto dello sport che poi si è trasformato in piccolo hub vaccinale e lei ha risposto anche a un'intervista sul centro oggi e ha definito una piccola aslo, ora senza nulla togliere a quelle ufficiali, ma che organizzazione è stata? Assolutamente sì, ho detto una piccola aslo assolutamente in maniera così informale. La notizia è di quelle più gradite e l'ho ricevuta qualche giorno fa dal coordinatore della campagna vaccinale, il dottor Rossano Di Luzio, che ringrazia insieme a tutto il sistema ASL, a tutta l'azienda ASL, al direttore generale Vincenzo Ciamponi per tutto il lavoro che stanno compiendo. Io qui nel mio territorio abbiamo eseguito, abbiamo creato un tavolo di coordinamento con i medici di base, con il mondo scolastico, con le forze dell'ordine e con il mondo del volontariato. Insieme alla mia squadra, che anche oggi ringrazio come ho fatto in precedenza, ringrazio sempre la mia squadra di governo, assessori e consiglieri, abbiamo sempre portato avanti dapprima giornate di screening, di tamponi, poi abbiamo eseguito insieme alla ASL abbiamo creato il centro tamponi molecolari da ottobre 2020 fino ai primi giorni di aprile, abbiamo sostituto 1164 tamponi e poi dal 15 febbraio 2021 è stato il primo paese, Torre dei Passi, dove si è iniziato i vaccini sul territorio, da parte della ASL, all'interno del Palazzetto dello Sport e da lì sono stati eseguiti tante e tante giornate, non solo sul Palazzetto ma anche al Bocciotrum ultimamente, ma soprattutto anche, e grazie, io li ringrazio formalmente, i medici di base perché loro anche nei loro ambulatori hanno sostenuto, sostengono e sosterranno perché ovviamente non è finita qui. Proprio questo punto, Sindaco, mi perdoni, voglio sottolineare perché, così chiamo in campo anche il Dottor Mancini, l'essere così presenti vicini al cittadino e disponibili, io mi rendo conto anche che nelle grandi città è molto più difficile da fare, però qualcuno lo fa, un medico di base che chiama uno dei assistiti e dice guarda ho i vaccini, veniti a fare il vaccino. Alcuni lo fanno, alcuni no, voi siete stati disponibili anche al punto di andare a domicilio in certi casi, come mi diceva, però questo non deve far pensare alle persone che tanti vaccinati equivalgono a tanti non ammalati, perché poi i positivi sono venuti anche a Torre dei Passi e non vorrebbe far venire il mondo in cerca dell'oasi, ma questi contagiati e vaccinati la percentuale di quelli che sono stati ospedalizzati è praticamente nulla. Nulla, nulla, non ci sono state grosse problematiche dal punto di vista medico per quanto riguarda i contagiati. Io ho avuto circa la metà, ho tuttora circa la metà dei contagiati e quindi li seguo direttamente e posso garantire che la sintomatologia per fortuna in questi casi non è importante, quindi blanda, si può ricondurre a tosse, raffreddore e qualche linea di febbre. Dico per fortuna, naturalmente tornando a quello che stava dicendo lei, non è che avere il primato delle vaccinazioni coincide necessariamente col fatto di non avere contagiati, stiamo parlando di una variante che è la Omicron. Io personalmente ho avuto modo dal 29 dicembre di avere due pazienti rientranti dalla Germania che avevano un tampone sequenziato per variante Omicron, quindi sono stati subito isolati e ci siamo ritrovati quindi nell'arco di 10 giorni a quintuplicare il numero dei positivi, non certo per le due persone rientrate che sono state brave, sono isolate immediatamente, però questo non significa che avere il primato della vaccinazione, essere in possesso di un green pass rafforzato che quindi richiede l'esecuzione della dose booster può rendere immuni completamente a tal punto da non avere il contagio. Lei sottolinea anche che comunque bisogna mantenere attive le misure di protezione, il distanziamento, le mascherine? Sicuramente sono fondamentali, anzi questi sono i due capisaldi, sia la vaccinazione che il distanziamento, le norme igieniche, la mascherina e cercare di ridurre ove possibile l'assembramento di persone. Carmine, se non hai domande faccio concludere il sindaco solo magari citando anche gli altri collaboratori perché abbiamo sottolineato più volte che una squadra di operatori medici e sanitari oltre che naturalmente persone dell'amministrazione municipale quindi è giusto anche ricordare le altre persone che concorrono anche a questo primato se vogliamo, se sei d'accordo. Sì, sì, rapidamente. Allora Sindaco, che altro c'era in questo fantastico gruppo? Nel tavolo di coordinamento, come ho detto prima, sicuramente ci sono i medici di base che in questo territorio ne abbiamo cinque più una pediatra, tutti i miei assessori, i miei consiglieri, la Croce Rossa locale, il comitato di Croce Rossa locale ma anche la protezione civile di Castiglione a Casauria, la vicina Castiglione a Casauria che sono venuti in supporto in tante giornate, come dicevo prima, sia di tamponi che di screening che di vaccinazioni ma il vero motore ovviamente l'hanno creato loro, i medici, che in sinergia con noi, con la mia squadra hanno fatto sì di arrivare a questi risultati. La guerra non è ancora completamente vinta, abbiamo vinto tante battaglie, bisogna insistere e andare anche a quelli sotto i 12 anni in maniera maggiore ad insistere per poterli fare vaccinare, perché quella è la quota che rimane per di più a Torre dei Passeri. Quello è un altro problema, io immagino un futuro in cui magari quando ce ne sarà bisogno, se ci saranno delle recrudescenze di coronavirus, il medico chiama il proprio assistito e dice guarda, venite a fare il vaccino che qua c'è bisogno. Se sarà il futuro speriamo che magari non ce ne sarà neanche bisogno, ma questa è un'altra storia.